Ciao a tutti ragazzi, in questo video torniamo a parlare di tende da trekking, nel particolare oggi parliamo della NaturEich Tagar 2. Ammetto che sono un pochino emozionato nel fare questa recensione perché questa tenda è stata la mia prima tenda da trekking, ormai ce l'ho praticamente da 5-6 anni, ci ho fatto un sacco, davvero un sacco di escursioni ed è quella che mi ha avvicinato a questo mondo. Quindi con piacere vi porto la recensione e iniziamo subito vedendo il montaggio della tenda. Ciao a tutti. Iniziamo a parlare della tenda da un grosso punto negativo che io ho avuto con questa tenda, ovvero il palo centrale. Questo palo centrale facendo praticamente un semicerchio non è così semplice da installare, a me è capitato di romperlo, cioè nel senso io questa tenda l'ho rotta due volte e l'ho ricomprata due volte, innanzitutto perché mi sono trovato bene naturalmente, ma dovendo andare a spingere tanto, dovendo andare a fargli fare un semicerchio, c'è il rischio che questo alla lunga si vada a rompere. È un grosso limite secondo me di questa tenda, soprattutto se la utilizziamo molto spesso. Dico la verità, io penso di averla rotta all'incirca, in entrambi i casi, dopo un 15-20 uscite, più o meno. Allora, dato ciò, iniziamo il nostro giro attorno alla tenda, partendo da questa parte. Allora, cosa troviamo? La tenda è molto, davvero molto semplice. Troviamo, vabbè, la parte dove picchettarlo, come vi ho fatto vedere prima. Da quest'altra parte troviamo un'altra piccola fascetta, volendo, per poter andare a picchettarlo ulteriormente e aprire ancora di più la camera interna. Salendo troviamo le fettucce, in questo punto, dove andare a inserire il tirante per andare ad ancorarla al terreno. Ne troviamo uno da una parte della paleria e uno esattamente anche dalla parte opposta. Per il resto possiamo dire che da questa parte non c'è niente, dall'altro picchetto. Continuando, praticamente la parte dietro possiamo dire che è quasi completamente scarna. Troviamo nella parte bassa un pezzettino, una fettuccia da tirare per andare a tirare la parte posteriore della tenda, che vabbè, forse in questo caso potremmo tirarla ancora un pochino. E nella parte alta troviamo una finestra per la reazione, che vado ad aprire, poi dopo questa la ritroveremo quando parliamo dell'interno. Continuando, la parte di qua è praticamente simmetrica rispetto all'altra, quindi sotto troviamo la fettuccia da andare a tirare per aumentarla di grandezza. Nella parte superiore troviamo anche di qua le due fettuccine dove andare a tirarla per avere una maggiore rampiezza e fissarla nel terreno nel caso ci sia forte vento. Dato ciò, passiamo alla parte anteriore dove abbiamo solamente la porta, che vado ad aprirvi, perché questa porta possiamo aprirla in entrambi i modi. La cerniera ha lo strap, quindi adesso io che vado ad aprirla, questa cerniera ha diversi strap per andare a leggerirne la tensione e posso farla su. Io la faccio su di qua e qui trovo la fettuccia per andare a chiuderla all'interno, così che questa non si muova. Voglio farvi vedere un attimo la grandezza dell'abside. Diciamo che qua ci stanno degli zaini sui 30, 40 litri, non di più. Già un 50, probabilmente ce ne sta solamente uno, da 30 forse riusciamo a farne stare due. E adesso come vi ho fatto vedere vado ad aprire anche quest'altra parte, così che noi possiamo completamente andare ad aprirla. e avere la nostra tenda bella aperta per farla areare. Bene, ora che abbiamo aperto tutta la parte anteriore, possiamo inserirci all'interno della tenda. La apriamo, troviamo due zip che si possono aprire sia dall'interno che dall'esterno, così possiamo decidere noi dove andare a posizionare. Ne tengo una sulla parte e sull'estremità e vado ad aprirla completamente. Come potete vedere l'apertura è bella ampia, e possiamo andare a chiudere questa allo stesso modo nella chiusura, perché qui c'è la sua fettuccia. A questo punto io posso entrare all'interno della tenda. Eccoci qua. Allora, cosa troviamo all'interno? Qua sopra troviamo un gancio, il solito gancio di poter andare ad appendere una luce. e sull'estremità dall'altra parte troviamo un piccolo posto dove andare a riporre i nostri oggetti personali. A livello di grandezza questa tenda vado a sdraiarmi. Io vi ricordo che sono alto sempre il mio. 1,90m. Quanto dista? Eh, non tanto, eh. Diciamo che ho forse una decina di centimetri a esagerare. Diciamo che una volta che vado a mettere il matrassino che mi alza, mi alza dal terreno, penso che 1,90m sia l'altezza massima. Io a me è capitato con dei matrassini particolarmente alti che ti alzano parecchio di scontrarmi con i piedi o sul finale o con la testa sulla parte alta. Quindi se abbiamo un matrassino alto più o meno 5cm, 1,90m è l'altezza massima. Ci si sta bene in due, perché comunque due matrassini da 50cm di larghezza all'uno ci stanno. È una tenda però molto minimal. Non pensate, ad esempio, se siete dentro in due, di riuscire a far stare dentro uno zaino. Almeno che non siete alti 1,40m voi. Perché non ci sta dentro praticamente nulla. C'è una volta che abbiamo messo i nostri matrassini qui, non ci sta nient'altro. Abbiamo un ulteriore spazio da quest'altra parte, perché l'abside posteriore è sfruttabile solamente dall'interno. Andando ad aprire la zanzariera, qui troviamo una comoda parte dove andare magari a riporre uno zaino, se vogliamo portarlo di qua, delle scarpe, qualche altro indumento. È comunque sfruttabile. A questo punto, secondo me, una piccola pecca di questa tenda è non aver avuto la seconda entrata. Cioè, abbiamo, va bene, l'abside da questa parte, che è sfruttabile tramite questa zip, però perché non farci direttamente una seconda entrata sarebbe stato decisamente meglio, a mio parere. Parlando un attimo di cuciture, impermeabilità e via dicendo. Le cuciture sono fatte molto bene. Magari ve lo faccio vedere nella parte qua superiore. Sono termonastrate, hanno una doppia cucitura. Io posso assicurarvi che questa tenda l'ho utilizzata praticamente sotto qualsiasi condizione atmosferica. mancava poco e già provavo anche sotto la neve. Ho provato la grandine, però, e davvero non ho avuto nessun tipo di problema. Parlando di soldoni, dando due numeri, come capacità di impermeabilizzazione sia del telo esterno sia del telo interno, parliamo di 4.000 mm d'acqua, 4.000 colonne d'acqua. Il dato è uguale perché sono fatti dello stesso identico materiale, ovvero il nylon 20D. Quindi, secondo me, 4.000 colonne d'acqua abbastano, avanzano. L'unica cosa che vi vado a segnalare qua è la condensa. La condensa ne soffre un pochino. Allora, non è estrema, cioè la situazione non è critica, però in determinate condizioni ho avuto un po' di condensa. Naturalmente, essendo a singolo telo la condensa è abbastanza naturale in questo tipo di tende. Mi è capitato di passare la mano sulla parte del telo esterno e a trovarla un pochino bagnaticcia. Questo è naturale per questo tipo di tende e naturalmente ve lo do a segnalare. A livello di ventilazione, il vento non entra tanto qua dentro, motivo anche della condensa. Praticamente abbiamo la parte dove potrebbe entrare il vento è quella sotto delle due porte. Abbiamo la finestrella qua, come vi dicevo, che è l'unica e non è neanche tanto grossa. E poi nelle parti qua, dove praticamente finisce il pavimento e inizia il telo esterno, vabbè, le cuciture come sempre sono fatte bene, però troviamo tutta la zanzariera. E niente, quindi il vento qua dentro non entra. Se dovessimo prendere una notte abbastanza ventosa non sarebbe un grosso problema. ma l'unico aspetto, come vi dicevo, è che essendo poco areata la condensa si sente. Quindi tiriamo le conclusioni su questa tenda. A mio parere questa è un'ottima tenda, soprattutto per il prezzo a cui viene venduta, ovvero nella versione a due posti la si trova attorno ai 120-130 euro, alcune volte anche a meno di 100 se è particolarmente scontata, e soprattutto anche per il peso. Nella versione a due posti arriva a pesare un chilo e due, un chilo e tre. Dipende anche se ci portiamo dietro un telo mat che viene dato in dotazione con la tenda da poter mettere sotto la tenda quando noi andiamo a fissare per poter andare ad aumentare l'isolamento dal terreno. Se noi andiamo a portare anche questo telo la tenda peserà 200 grammi in più. Io personalmente con questa tenda mi ci sono sempre trovato davvero, davvero bene. L'ho utilizzata d'estate fino a 2000 metri e penso che quello sia il limite di questa tenda. Nelle notti in cui fa bello magari possiamo spingerci anche qualche centinaio di metri sopra ma non andrei oltre perché questo tipo di tenda si ha i cordini per poterla tirare una cosa ed altra ma per la condensa, per i materiali, per la struttura, a mio parere non ci andrei mai sopra i 2500 in extremis. Se poi dovesse esserci vento anche meno, 1500 massimo. Io penso che sia una tenda adatta davvero perfetta per chi inizia per chi inizia che vuole spendere poco per chi inizia che vuole portarsi poco peso perché se noi lo andiamo a dividere dalla paleria questo ci dà modo davvero di poter portare quasi neanche un chilo a testa. Che dire, io mi ci sono trovato veramente molto bene l'unico difetto, come vi ho detto è la paleria che io purtroppo l'ho rotta due volte e la condensa che all'interno qua un po' si fa sentire ma per il resto è una tenda che io ho amato e che vi consiglio. Non so dirvi se è la tenda migliore per chi inizia da principiante ma sicuramente questa è una candidata a tutti gli effetti. Detto ciò, voi se l'avete provata fatemi sapere qua sotto come vi siete trovati che sono curioso di sapere se anche voi avete amato questa tenda. Io nel frattempo vi saluto vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!